Cinque anni lavorava qui il generale ingegnere italiano, molto molto famoso e per noi lui è un eroe perché grazie a lui è stata fondata questa città. Si chiama questo generale Umberto Nobile. Fra un po' voi vedrete il film e potete sapere più, avere più informazioni di Umberto Nobile e speriamo che la giornata a voi piacera. Auguriamo a voi buona giornata. Se avete qualche domanda potete chiedere durante la nostra oggi escursione e grazie che siete arrivati a questa città bellissima, delgaprudne. Vorrei presentare a direttrice di questo museo, Galina Víctorovna, e con voi oggi lavoro anche la squadra di Galina Víctorovna.